Conoscere per gestire, un tassello della complessa rivoluzione dell'edilizia e del mutamento della figura del geometra e del progettista, è stato messo il 5 giugno 2015 alla Galleria Meravigli di Milano grazie all'evento organizzato da Groma, la società di servizi nata per gestire il patrimonio immobiliare del suo socio unico, la Cassa Italiana di Previdenza dei Geometri Liberi Professionisti, ponti rinnovabili e riqualificazione urbana come strumenti di sostenibilità ambientale Attraverso l'intervento del professor Giovanni Idotelli, docente del Politecnico di Milano abbiamo conosciuto un concetto che va oltre il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale I geometri sono una delle icone portanti delle strutture tecniche tutte le società alle banche, alle assicurazioni, ai comuni, alle regioni il geometra è l'operativo da cantiere, l'operativo da progetto perciò che il geometra si formi, parli di sostenibilità, parli di sistemi, parli di impianti è un must per rendere i geometri che sono il cuore portante delle strutture tecniche di qualsiasi società un qualcosa in più Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!